Chiudiamo con una sentenza di magistratura che ancora una volta farà discutere tantissimo. Un anno fa nel quadro dell'accorpamento diplomatico era stata chiusa l'ambasciata d'Italia nella Repubblica Dominicana, insomma a Santo Domingo, che a quanto pare verrà riaperta perché il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ha accolto il ricorso presentato da alcune organizzazioni che erano contrarie a questa chiusura.